Io resto a casa e spero che anche voi viviate questo impegno importante in questi giorni. Per questi momenti di riflessione vorrei leggervi un brano da una lettera che ha scritto l'allora Papa Benedetto XVI intitolata Spe Salvi dedicata al tema della speranza. Dice così ci è stata donata la speranza, una speranza affidabile, in virtù della quale noi possiamo affrontare il nostro presente. Il presente, anche un presente faticoso, può essere vissuto ed accettato se conduce verso una meta e se di questa meta noi possiamo essere sicuri. Se questa meta è così grande da giustificare la fatica del cammino. Elemento distintivo dei cristiani è il fatto che essi hanno un futuro. Non è che sappiano nei particolari ciò che li attende, ma sanno nell'insieme che la loro vita non finisce nel vuoto. Solo quando il futuro è certo come realtà positiva diventa vivibile anche il presente. E qual è questo futuro? Che non conosciamo nei particolari, ma sappiamo nella certezza, nella speranza. Quando ci troviamo in difficoltà, quando siamo in un mare di guai, c'è un'espressione popolare. E ora? E la risposta è siamo nelle mani di Dio. In una situazione di questo genere, sentì un anziano che disse, se siamo nelle mani di Dio, allora siamo in buone mani. Siamo in buone mani. Che il Signore ci aiuti e vi benedica tutti.